è qualcosa che mi appartiene. Mi appartiene perché i fenomeni migratori hanno accompagnato praticamente quasi tutto il mio percorso professionale che è cominciato alla fine dell'87. Perché dico questo? Perché il mio primo incontro, che avrei voluto essere un po' meno sconvolgente con i fenomeni migratori, è avvenuto nel lontano marzo del 1991, quando all'epoca lavoravo a Matera e se qualcuno di voi un po' più adulto se lo ricorda, quello fu l'anno in cui in poche ore, a marzo, arrivarono esattamente circa 25.000 albanesi sulle coste asiatiche. Questo ci colse totalmente di sorpresa, ma coinvolse pure la mia sede di servizio perché lì per la prima volta mi trovo a dover gestire la primissima accoglienza di circa 5.000 albanesi nel metà pontino. Lo affrontammo con gli strumenti che avevamo all'epoca, direi soprattutto con un po' di fantasia e di spirito di iniziativa, vale a dire coinvolgendo vari campeggi che avevamo nel metà pontino, coinvolgendo l'esercito per metterci a disposizione cucine da campo, un minimo di attrezzature, coinvolgendo pesantemente, cosa che evidentemente era nel mio destino il reparto mobile di Reggio Calabria per avere un minimo di servizi e ci rimboccammo le mani che affrontammo questo primo appuntamento con un fenomeno che per l'Italia all'epoca era pressoché sconosciuto. Non vi voglio dire poi della nave Vlora che arrivò a Bari nell'agosto dello stesso anno. Noi oggi facciamo incontri con la Pedusa. Voi pensate, una nave carica di 20.000 albanesi, 20.000. Qualche cosa di sconvolgente. E quello fu il nostro primo impatto, non solo per quanto riguarda la mia persona, ma direi del Paese con un fenomeno che in quel momento era veramente residuale. E a mano a mano che sono andato via nel mio percorso di vita e professionale, ho visto crescere e diversificarsi questo fenomeno. Ormai gli episodi albanesi sono alle nostre spalle. Eppure io non sono partito a caso da parlarvi dell'Albania. Perché vedete, se c'è un fenomeno migratorio storico nel nostro Paese, e credetemi, veniamo a bomba ai temi dell'attualità, è proprio quello degli albanesi. Ed è una storia che è legata esattamente agli stessi scenari, scenari che noi oggi chiamiamo con termini paludati e molto istruiti, scenari geopolitici, che c'erano però anche nel Medioevo. Pensiamo alle invasioni turche nei Balcani. Quello provocò un largo flusso di migranti, di migranti albanesi, che portavano con loro culture, che portavano con loro anche un orientamento religioso diverso, perché chiaramente per complicarci la vita, un conto essere cattolici, un conto essere ortodossi. Eppure, se questo è stato un fenomeno di emergenza all'epoca, è anche un fenomeno, è una storia di integrazione con la salvaguardia dei propri usi e costumi. Forse voi non ricorderete Clemente XI, un Papa evidentemente. Quello che però pochi ricordano è che questo Clemente XI si chiamava, guardate un po', di cognome, Albani, perché lui era un discendente di immigrati albanesi. Qui a Palermo dovesse ricordare un certo Francesco Crispi. Anche lui era di origine a Brescia. Qualcuno, magari orientato da qualche parte, ricorderà, anche se ingiustamente dimenticato, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era di origine a Brescia. Qualcun altro forse ricorderà Mortati. Mortati è stato un grandissimo giurista, di Corigliano Calabro. Quindi queste due origini dovrebbero ricordarvi qualcosa. Ma ricordiamo, per esempio, un altro esponente della cultura albanese, Rodotà. Rodotà è stato un pello da diventare addirittura Presidente della Repubblica. Un pello, comunque, provocò delle polemiche sulle quali non è il caso di soffermarci. Cuccia, Enrico Cuccia, era anche lui originale della Sicilia, ma era anche lui a Brescia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il fenomeno migratorio è qualcosa con cui noi, esseri umani, dobbiamo, abbiamo sempre fatto i conti, sempre. Noi siamo, ed è un fenomeno insito, credo, nella natura umana, che subisce delle accelerazioni in virtù di vari elementi. Certamente gli elementi geopolitici sono importanti. Sono importanti anche, naturalmente, i disagi di popolazioni che vivono in condizioni che per noi europei sono ormai dimenticate, ma che sono una triste realtà di certi paesi. E tutto questo impone a noi che oggi, qui, abbiamo delle responsabilità di affrontare, di farci carico di questa responsabilità, per vari motivi. Chi vi parla è stato fino a un mese fa, poco più di un mese fa, a Reggio Calabria. In quattro anni e mezzo noi abbiamo avuto diverse centinaia di sbarchi lungo tutta la costa Ionica. Abbiamo dovuto provvedere all'assistenza e all'accoglienza di decine di migliaia di persone, provenienti soprattutto dalle aree medio orientali, quindi Afghanistan, Iraq, Iran, Siria, anche palestinesi, anche pakistani, ultimamente. Altre volte abbiamo avuto sbarchi provenienti dal Nord Africa, in particolare dalla Cirenaica, quindi soprattutto egiziani in questo caso. E in più siamo stati anche un polo come Reggio Calabria, come porto di Reggio Calabria, del trasferimento di migranti provenienti dall'Ampedusa. Tutto questo ha comportato un fortissimo impegno organizzativo per noi del Ministero dell'Interno. Si trattava di assicurare a queste decine di migliaia di persone un'accoglienza, una primissima accoglienza, si trattava di assicurare un minimo di assistenza anche sanitaria, si trattava di convolgere tutti i soggetti a vari titoli interessati a questa accoglienza. Per non parlare poi dell'impegno profuso, incredibile devo dire, da parte innanzitutto della Guardia Costiera e della componente nautica della Guardia di Finanza, che hanno fatto sacrifici, credetemi, incredibili, anche perché pochi sanno che la zona SAR di Reggio Calabria è afferrabbi estese in assoluto nel nostro Paese. Abbiamo avuto un fortissimo, incredibile impegno da parte delle forze di Polizia, la Polizia di Stato, l'ufficio stranieri che è stato stressato allo spasimo, perché gli uomini sono quelli, naturalmente. Abbiamo avuto la necessità di impiegare molte risorse sottraendole al contorno del territorio in una realtà come quella regina che, come dire, c'è anche qualche altro problemino sul quale non è questa la sede per soffermarci. E tuttavia abbiamo affrontato questo sforzo per due motivi. Il più banale, ma che banale non è, è un motivo semplicemente umanitario, ovviamente, e questo lo diamo per scontato. Il secondo è perché io credo che la gestione dei fenomeni sia funzionale e sia perfettamente coerente con la mission di chi, come sottoscritto, ha, insieme a quest'ora, la responsabilità per l'ordine della sicurezza pubblica su un territorio. Se io gestisco il problema, il problema non si crea, dico io. Se io devo fare arrivare roccella ionica e gestire sbarchi che corrispondono all'incirca, l'anno scorso, nel 2022, a più del doppio della popolazione residente in un territorio a fortissima vocazione turistica, questo può essere un problema. E noi non dobbiamo mai dimenticare che per gestire queste cose occorre sempre creare un giusto equilibrio fra l'esigenza di fare ciò che è il nostro dovere, innanzitutto come uomini, ma anche come servitori dello Stato. In secondo luogo, noi abbiamo anche dei doveri nei confronti delle popolazioni residenti che non devono, viceversa, vedere nell'arrivo di tutte queste persone un momento di tensione, un momento di disagio, ma devono viceversa vederle come un aspetto, come qualcosa che può succedere, ma che lo Stato è in grado di gestire. Se facciamo questo, noi facciamo proprio di questi tempi, un anno fa, una conferenza roccella ionica, dove dimostramo che nonostante l'enorme incremento degli sbarchi, parliamo di un comune che ha dovuto registrare, se non ricordo male, 114 sbarchi nel giro di pochi mesi, però ha avuto per esempio un buon turistico. Diciamo che non si è accorto nessuno, noi abbiamo gestito contemporaneamente centinaia di arrivi al porto di Roccella Ionica ad agosto e nello stesso tempo a poche centinaia di metri abbiamo anche gestito l'immenso evento di Giovanotti. Ecco, io quindi vedo nella gestione di questa primissima accoglienza, innanzitutto, ecco, io credo che debbano essere coniugati questi due fattori. Il secondo fattore, ovviamente, riguarda il futuro di queste persone. E anche qui, io credo che la cosa più importante sia guardare in faccia alla realtà. È vero, questo è un fenomeno sistemico, è un fenomeno che in questo momento, in questi anni, ha avuto un'enorme impennata, è un fenomeno che noi che siamo, come dire, i destinatari finali, siamo quelli che poi devono gestire. Ecco, è un fenomeno che noi non possiamo naturalmente governare, dico noi come rappresentanti del governo, rappresentanti del Ministero dell'Interno, possiamo, come dire, governare alla partenza, all'origine. Quando arrivano noi dobbiamo fare la nostra parte. E però è anche vero che tutto questo richiama una grossa responsabilità di noi, di tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali, a prendere atto di quella che è la realtà di questo nostro mondo. Vedete, le persone che arrivano sono un po' la cartina di tornasole di ciò che stiamo vivendo in questo periodo. Quando ti arrivano gli afghani, nel momento in cui tornano alla grande i talebani, e beh, tu finisci nella lontana Calabria per contemplare un paese che vive un momento come quello. Quando tu ti vedi arrivare lì tanti giovani iraniani, e ne ho visti tanti, devo dire, e beh, sai che cosa sta succedendo lì? Certo, nel nostro paese il fatto che da un anno, da più di un anno, tanti giovani protestano perché magari non gradiscono vedersi spaccare la testa per qualche capello fuori posto, vedo che non dà grandi reazioni. Eppure da un anno ci sono tanti giovani che manifestano coraggiosamente, muoiono, vengono torturati, impiccati alle gru, almeno per quello che mi è dato da vedere. Ma d'altra parte adesso abbiamo una crisi in Palestina, e noi questi effetti li avremo. Così come avremmo, naturalmente, abbiamo visto gli effetti di quello che è successo e sta succedendo in Siria. Nel 2015, ricordo, una nave a guardia costiera con 700 siriani ridotti in condizioni miserevoli a gennaio, che venivano in una situazione terribile. Cioè, ecco, quindi noi da un lato dobbiamo pensare a dove vengono e non dimentichiamo tutto quello che sta succedendo in Africa. È vero, c'è un discorso legato alla questione demografica. Certamente l'Europa risente di un callo, di un inverno demografico particolarmente avvertito avvertito qui in Italia. Ed è altrettanto vero che noi abbiamo comunque, e sappiamo che abbiamo bisogno di persone che vengano ad aiutare il nostro Paese. Non c'è dubbio. Ecco ancora una volta l'esigenza di gestire. Gestire la migrazione, dare una prospettiva, dare la possibilità di conciliare da un lato gli interessi più che legittimi nel nostro Paese, di poter trovare nell'immigrazione un'opportunità. Ma nello stesso tempo dare opportunità alle persone che vengono da Paesi meno fortunati del nostro e da continenti meno fortunati del nostro. Dobbiamo, in altre parole, gestire con razionalità, con ordine, e soprattutto fare in maniera tale che si possano conciliare queste esigenze che non sono opposte. Io credo che bisogna dare il massimo contributo perché queste esigenze, che troppo spesso vediamo come contrapposte, possono essere esigenze coerenti anche con quelle nostre. Chiunque ragiona con imprenditori, chiunque ragiona con il mondo economico, e questo mi capita spessissimo, sa quante difficoltà ci sono ad esempio a trovare operatore, a trovare mano d'opera. Se si crea questo interscambio, se si libera questo momento dalle inutili e sterili ideologie, inutili, esteriche, polemiche, e si affronta con quello che ci ha dato il buon Dio, cioè la razionalità, io penso che si possa trovare il modo per conciliare queste esigenze. Certamente non si può conciliare queste esigenze continuando a vedere arrivare queste barche in quelle condizioni disperate. Non si può pensare che si possa arrivare a questo continuando a tollerare che delle persone speculino su queste tragedie. La Polizia, lodevolmente, a Roccella, ha arrestato numerosi scafisti. Non vi voglio dire quanto spende ciascuna di queste persone per potersi imbarcare in queste piccole imbarcazioni vuote dentro, stipati come sardine. Sono cifre veramente importanti e con quelle stesse cifre loro magari potrebbero arrivare comodamente in aero nel nostro paese. E questo noi lo dobbiamo contrastare con la massima energia. È inutile, cioè non dobbiamo pensare che questo che possa diventare sistemico il fenomeno del trasferimento via mare in queste condizioni. È una cosa intollerabile. Intollerabile perché noi arricchiamo delle organizzazioni che ci sono per esempio in Turchia e su cui si sta lavorando naturalmente sul piano della Polizia giudiziaria. Intollerabile perché ovviamente non si può immaginare di continuare a vedere come una breve di cronaca la morte di decine e centinaia di persone. Sono numeri che noi non conosciamo. Però sono situazioni che non possono essere consentite. Quindi si tratta di lavorare, di lavorare duro e di lavorare anche per far sì ed è in fondo anche questo il tema e vado a concludere perché sto contravenendo le raccomandazioni di brevità è importante anche il dopo sbarco. Impedire questi arrivi indiscriminati che portano solo morti e arricchiscono pochi e nello stesso tempo fare in maniera tale che la gestione sia la nostra sia tale cioè da evitare queste tragedie e da far sì che questa immigrazione dall'essere un'emergenza sia un'opportunità per noi e per loro e per coloro che vogliono venire ad aiutare e a contribuire alla crescita di questo nostro paese. Grazie.